Buongiorno e bentrovati a Mattino 7. Ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito con la lettura delle prime pagine regionali. Alle mie spalle già vedete il centro nell'edizione di Pescara. Il titolo di apertura riguarda l'influenza, vaccini per l'ondata bis. Pescara nuova emergenza, l'ASL mette a disposizione 20.000 dosi. Andiamo adesso nel taglio alto dove troviamo la politica. Lista Quagliarello e Serracchiani, candidati in Abruzzo fuori Chiodi, Gatti e Ginobble. Nel PD vince la linea d'Alfonso. Dunque Gaetano Quagliarello e Deborah Serracchiani piombano sul palcoscenico elettorale come candidati in Abruzzo ma restano fuori big come Tommaso Ginobble, Gianni Chiodi e Paolo Gatti. Le liste per il voto del 4 marzo sono praticamente fatte. Nel PD vince la linea d'Alfonso, nel centrodestra decide Berlusconi in libere uguali e fuga di candidati, mentre i 5 Stelle scioglieranno gli ultimi nodi lunedì. E poi via alla campagna 5 Stelle si parte in minivan per 360 tappe nella regione. Poi pronto il nuovo stop nel cantiere del Megalo 2. Le ruspe sono già a lavoro. Ancora oggi gli stand Cancro, l'AERC finanzia la ricerca sull'aspirina. Andiamo adesso a centropagina nella fotonotizia. La partita di ieri sera, l'anticipo è finito 2-0 per il Perugia. Il Pescara si arrende al Perugia. Zeman striglia i suoi. Andiamo a vedere nella didascalia. Nell'anticipo del campionato di B, il Perugia espugna l'Adriatico di Pescara con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Juan nella foto e di Carmine. Per la formazione di Zeman arriva la prima sconfitta del 2018. Il Pescara resta fermo a quota 31. L'allenatore Biancazzurro a fine gara striglia i suoi. E poi sentiremo le parole di Zeman più avanti. Nelle cronache, la mamma di Jennifer, non perdono l'assassino di mia figlia. E poi Montesilvano, terzo sgombero in Pineta, parco devastato, appenne trovata chiusa in casa con i cani. Donna è stata liberata di spalla. Troviamo il giorno della memoria, il ricordo dello sterminio. L'Abruzzo ricorda le vittime della Shoah. Vedete una foto degli internati di Casoli. Furono 218 gli internati dal fascismo nel campo di concentramento di Casoli in funzione dal 40 al 44. Oggi, nel giorno della memoria, una targa con tutti i loro nomi sarà scoperta proprio a Casoli. E in tutto l'Abruzzo recita le concerti ricorderanno le vittime della Shoah. Nel taglio basso, il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. Il titolo, nuovi lavori. Accarezzatore di gatti cerca, sì, tra l'altro un lavoro anche ben retribuito, sono 25 mila euro all'anno. Si trova in Irlanda, una clinica veterinaria che si chiama Just Cats, solo gatti, che cerca un accarezzatore professionista di gatti. E poi proseguiamo con la lettura del centro. Nella pagina di Chieti Lanciano Vasto, l'apertura, eccola qui, assalto alla sala slot, ladri in fuga, lo scalo vetrina sfondata, con l'auto rubata. In centro vandali scatenati. Nel taglio alto ritroviamo ancora la pagina politica con le candidature in Abruzzo. Abbiamo già visto in precedenza, allora andiamo adesso nelle cronache a San Vito. Sospeso custode del cimitero, era da ore al bar. E poi a Fossa Cesia, treno merci fuori dei binari, c'è l'inchiesta. Avvasto, il rimpasto di giunta del casale esce e forte diventa. Nuovo assessore. Andiamo a vedere a centro pagina la tradizione a Frisa, festa del maiale da record, grigliate con 90 chili di carne. Nel centro, questa è la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona. Il titolo di apertura, tasse da restituire. Ecco i ricorsi. L'Aquila parte, la stangata post-sisma, da 76 milioni per 126 aziende. Andiamo a vedere adesso nelle cronache. L'Aquila, la ricostruzione, indagato un architetto che aveva fatto collaudi nel post-sisma. E poi sul Mona, un sessantenne stroncato da uno shock settico. E ancora all'Aquila, la pertonanza, candidatura ok per l'UNESCO. A centro pagina, nella fotonotizia, l'iniziativa all'Aquilone, il comico Gio Becovatta e le risate per la solidarietà. Lo scrittore e comico Gio Becovatta, che vedete nella fotografia, protagonista ieri all'Aquilone, nell'ambito del progetto di sensibilizzazione promosso da Etos e legato a Via della Strada. Si tratta del progetto di AMREF, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie. Sono stati premiati alcuni studenti. Andiamo a vedere adesso l'edizione teramana del centro. Il titolo di apertura è di cronaca. Usura, la paura blocca, le denunce, la procura è di teramo. Il fenomeno esiste, ma rimane sommerso. E poi andiamo a vedere nelle cronache il processo Castrum, tangenti, teste, accusa in aula di Filippo. E poi le opere anti-erosione ad Alba, ricorso al Tar contro Martinsicuro. Il 12 febbraio D'Alfonso va a Roseto. È la prima volta per quanto riguarda il governatore della regione. A centro pagina invece troviamo il calcio di Serie C, il teramo alla svolta. Palladini debutta a Ravenna. Addio al veleno di Repetto. In qualche modo nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, il patron Campitelli. Aveva fatto capire che il rapporto con il suo direttore sportivo era terminato. Oggi si torna in campo alle 18.30 nella difficile trasferta di Ravenna. E quindi ci sarà il debutto di Ottavio Palladini sulla panchina del diavolo. Modulo 433, intanto è ufficiale l'esonero del DS Giorgio Repetto, che viene sostituito da Sandro Federico. E lancia frecciate ai consiglieri più o meno visibili del presidente Campitelli. Lasciamo il quotidiano il centro. Adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Segregate in casa tra i rifiuti. E il titolo di apertura penne una donna abbandonata nel degrado dal marito che va a vivere con un uomo. È stata affidata ai servizi sociali. Dopo l'allarme lanciato dai vicini, indagano i carabinieri. Proseguiamo con la lettura del giornale. Andiamo a vedere in questa finestrella Lanciano assenteista sospeso dal GIP e beccato al bar durante l'orario di lavoro. E poi a centropagina la politica con le candidature. La Serracchiani dopo D'Alfonso, due governatori in corsa per il PD di partiti e il rebus delle liste. A sorpresa il 5 Stelle schiera il giornalista primo di Nicola. Andiamo a vedere le altre notizie per quanto riguarda la cronaca giudiziaria. Giulianova ha processo Castrum, le accuse di un ex assessore. All'attacco dell'ex dirigente dell'ufficio, Mariangela Mastropieto, e del marito è andato Emidio Di Saverio, ex assessore all'urbanistica. Poi Asl Pescara ha bocciato alla supercardiologia, ha approvato l'atto aziendale dell'Asl pescarese, ma senza la supercardiologia requisito per il superospedale. A centropagine il giornale ricorda 30 anni fa l'ultimo treno alla vecchia stazione di Pescara, Pescara festa dalla festa all'abbandono dell'area di Risulta. Di spalla Pesco Costanzo in passerella al Chilimangiaro su Rai 3. Per quanto riguarda i borghi e le bellezze del nostro Abruzzo, la puntata di domani conferma il momento magico dei paesi d'Abruzzo. E poi nel taglio basso troviamo invece ancora la cronaca, Chieti il pedofilo, mini atleti abusati, spuntano nuovi casi, si avvicina il processo per l'allenatore di baseball accusato di abusi sessuali su 9 piccoli atleti tra gli 8 e i 13 anni. L'uomo, un 52enne di San Buceto, è rinchiuso in carcere dal 22 marzo del 2017. Andiamo a vedere adesso il taglio alto con le altre notizie. La buona azione, Pescara, la finanza dona ai poveri i campi sequestrati con le false griff. All'Aquila, borse di studio, sorpresa amara all'università, manca un milione. E poi la Serie B con la delusione bianca-azzurra. Perugia, Corsaro all'Adriatico, l'anticipo in notturna finisce 0-2 per gli Umbri, vincenti con un gol per tempo. Nei primi 45 minuti la squadra gioca la pari, ma poi va in confusione nel corso della ripresa. Vedremo più avanti anche il servizio della partita. Proseguiamo con la lettura dei giornali e delle prime pagine regionali. Questa è la prima della città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura, Teramo ridotta, colonia capitolina. Le decisioni sulle liste spazzano via un'intera classe dirigente e lasciano campo libero ai 5 stelle. E poi c'è l'editoriale, sempre sulla politica di Alessandro Misson, una nuova legge di truffa. Andiamo avanti con la notizia di centropagina. Sulla fotonotizia, sistemare o demolire Teramo, i residenti inchiodano il comune ad agire in via Muzzi. Di spalla invece troviamo il processo Castrum. L'imprenditore mi chiesero soldi per sbloccare una pratica. Giulianova poi truffa dei loculi, testa la pena per la dipendente. E ancora sotto la fotonotizia, bye bye ampliamento a Santa Lucia, atri il piano dei rifiuti, disinnesca i lavori alla discarica. Nel taglio basso troviamo lo sport, in particolare il calcio di Serie C e dunque il Teramo. Federico, nuovo di essi al posto di Repetto. Candeloro tratta per l'intera società, si continua appunto a parlare di questa trattativa per la cessione del Teramo che vedrebbe interessato il presidente attuale del Francavilla, Candeloro. Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale. Andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Il Corriere della Sera, in apertura, un pezzo di legno usato per sostenere il binario a rischio. Si parla chiaramente della tragedia del treno deragliato. Indagini sulla manutenzione. Qui vedete in questa fotografia la tavoletta di legno che era stata inserita sotto la rotaia come sostegno proprio nel punto in cui il binario ha ceduto. Andiamo a vedere adesso a centropagine. Invece nella grande fotografia il vertice di Davos. Il presidente evita le polemiche con l'Europa. America first, ma non da sola. Questo è un po' il sunto dell'intervento di Trump al World Economic Forum. E poi c'è il fondo di Daniele Manca. Gli USA, i cambi, il dollaro e i giochi pericolosi. C'è anche chiaramente la politica sulla prima del Corriere. Liste, alta tensione nel PD, esclusioni, eliti nei 5 Stelle. Sondaggio, Movimento 5 Stelle vince tra i giovani, over 65 invece con i democratici. Andiamo sulla Repubblica. Anche qui c'è un sondaggio, ma questa volta in apertura. Voto, cala il PD, indecisi al 47%. Gentiloni, leader, Dem divisi sulle liste. Renzi a zera le correnti. Per le parlamentarie dei 5 Stelle protesta la base. Anche qui nella fotonotizia in prima pagina c'è il vertice di Davos. Trump, manifesto per i ricchi del mondo, l'America più forte, investite da noi. E poi l'inchiesta per quanto riguarda il treno deragliato. Sui binari rattoppi in legno, un sensore poteva evitare la strage di Pioltello. C'è anche il processo sulla trattativa Stato-Mafia. Il taglio basso, l'accusa dei PM, condannare Mori, Mancino e Dell'Utri. Richieste pesanti di condanna da parte della Procura. Vedremo più avanti. La stampa. Adesso il titolo di apertura del quotidiano piemontese. La battaglia delle liste spacca il Partito Democratico. Trattativa a Nervi Tesi, Renzi e Orlando vicini alla rottura. Il segretario fa incetta di collegi. 5 Stelle rivolta a degli esclusi, cancellati da Di Maio, senza spiegazioni. In Veneto una candidata paragona i vaccini al genocidio. E poi il retroscena di Fabio Martini. L'ex premier si blinda per il futuro. Chiaramente si parla di Matteo Renzi. E poi a centropagina ancora il vertice di Davos. Trump esporta il modello. Fate come noi. A Davos il Presidente americano invita l'Unione Europea e gli altri paesi ad adottare le sue politiche economiche. Per quanto riguarda un maggiore protezionismo dell'economia interna. Il sole 24 ore, adesso il quotidiano economico e finanziario italiano, apre con i dati che riguardano l'economia statunitense. Dunque restiamo in tema. Economia USA in corsa, bond e dollaro sotto tiro. Nel 2017 il PIL statunitense è salito del 2,3%. Anche se questo è un dato sotto le stime degli analisti. Indice azionari ancora in progresso. Trump, America first, non significa America da sola. E poi andiamo a vedere invece i conti pubblici italiani. Debito italiano sostenibile ma solo nel breve periodo. I conti pubblici, il rapporto dell'Unione Europea. C'è l'incognita tassi di interesse per un debito, quello italiano, molto pesante. Ma questo lo sappiamo. Andiamo sul fatto quotidiano. Il titolo di apertura riguarda le candidature del Partito Democratico. PD, poltrone, democratiche e la notte dei lunghi coltelli. Orlando Furioso, Renzi vuole scegliere pure i candidati della minoranza. Dopo continui rinvii a direzione del partito va alle ore piccole. Il segretario avverte il guardasigilli. Devi mettere facce nuove. La polemica sulla candidatura di Boschi a Bolzano. La presentazione slitta lunedì. Il ruolo dell'altro segretario, Bressa, è il fattore della SVP. Questo è l'assunto nel Partito Democratico. Nel taglio alto invece troviamo la trattativa Stato-mafia. Il processo, il PM non tratta. 15 anni per Mori, 12 per Dell'Utri. La procura in totale chiede 88 anni di carcere per 8 dei 9 imputati. Qui vedete Mario Mori, per lui la richiesta di 15 anni. Antonio Subranni, 10 anni. Marcello Dell'Utri, 12 anni. Nicola Mancino, 6 anni. E 16 anni a Leoluca Bagarella. Mentre si continua a parlare di questa requisitoria. Il procuratore Teresi chiude così con queste richieste. Con le parole di Riina e Graviano. Chiude la requisitoria su Berlusconi e Dell'Utri. a proposito delle stragi del 92-93 e dei tentati di ricatti di un anno fa. Proseguiamo con il manifesto. Andiamo a vedere il titolo tradizionale sulla fotografia. Piazza Affari. Al World Economic Forum di Davos. È stato il giorno di Trump. Si attendeva una risposta alle accuse di protezionismo di Merkel e Macron. Ma il tycoon ha giocato in contropiede. Nessuna polemica. Tutta pubblicità ha i suoi risultati. America first. Ma non alone. Cioè non da sola. Andiamo poi a vedere la politica interna. Renzi piglia tutto. La lunga notte del PD. Le liste. Liberi uguali al traguardo. Ma restano le polemiche interne. Anche qui sulle candidature. E poi andiamo sul messaggero. Il titolo di apertura. Polizie e militari. I nuovi stipendi. Stipendi. Firmato il rinnovo del contratto dopo nove anni. Aumenti medi di 130 euro lordi al mese. Scatti e carriera. Gli effetti in busta paga. Il sottosegretario Rughetti. Premi a chi è in strada. E poi andiamo a vedere la fotonotizia. La vittima è grave. Ha subito la potazione di una mano. Donna spinta sotto la metro. Sciocca a Roma. I testimoni. Aveva litigato con un uomo. Proseguiamo con il tempo. Sempre quotidiani romani. Elemosina per i servitori dello Stato. Vedete la lettura differente dei due giornali. Umiliazione nel nuovo contratto delle forze dell'ordine. Aumenti ridicoli. 44 euro di media. Ira dei sindacati costretti a firmare. Il governo ha pure il coraggio di andare a vantarsi. Proseguiamo con Libero. Il quotidiano di Feltri in apertura. Il titolo ha quanti morti di cure sbagliate. Troppi errori medici. Un decesso su tre potrebbe essere evitato a causa di impreparazione, burocrazia e scarsi mezzi. Eppure il 95% dei processi penali a carico dei sanitari si conclude con un proscioglimento. Andiamo sul secolo d'Italia. Anche qui il titolo di apertura. Vediamolo. Priorità ai pendolari. Il giorno dopo la tragedia del deragliamento del treno alle porte di Milano infuria la polemica sulla sicurezza dei trasporti. Nel taglio basso, in primo piano, posti, liste e liti a sinistra. Orlando minaccia Renzi e poi Guerri spiega a Mattarella grave errore su fascismo e ancora caos nel cancio italiano perché non sono stati assegnati i diritti TV. Andiamo sulla verità. Restiamo ancora ai quotidiani di centrodestra. Indagine sullo scandalo immigrati. Accoglienza a delinquere. I gestori del famigerato centro di Conetta, accusati di aver formato una banda, occupandosi di profughi, hanno aumentato il fatturato di 350 volte in un anno, barando, ma nessuno li ha fermati. E poi a centropagina, la polemica sollevata dal giornale, l'indipendenza della Repubblica, il condirettore è candidato con il Partito Democratico. Andiamo su Avvenire. Il titolo di apertura del quotidiano cattolico, l'eutanasia, non è una scelta di civiltà. Il Papa difendere la vita dal concepimento alla fine. La denuncia alla congregazione per la dottrina della fede, assolutizzando l'autodeterminazione, si fa crescere la richiesta di morte. E poi ancora, diciamo, temi che riguardano la natalità, patto natalità, l'impegno delle donne, 5 voci contro l'emergenza demografica. Andiamo ancora avanti, andiamo a vedere il mattino di Napoli, il titolo di apertura è sulla politica. Candidati, PD diviso, Movimento 5 Stelle nel caos. Renzi, voglio volti nuovi ma è scontro con la minoranza di Orlando. Rinviata la candidatura della Boschia Bolzano. Di Maio e Casaleggio per i 5 Stelle riscrivono i risultati delle parlamentari e scoppia la protesta. Andiamo a vedere poi a centropagina, trattativa Stato-Mafia, chiesti 6 anni per Mancino. Questo è il titolo sul processo, il PM di Matteo critica i giudici e invoca pene esemplari. Adesso andiamo a vedere i quotidiani sportivi nazionali. La Gazzetta dello Sport in apertura apre con il duello Napoli-Juve, dispetto Scudetto, questo è il titolo. Braccio di ferro tra le due superrivali per Politano del Sassuolo e intanto il Monaco soffia Pellegri, 25 milioni ai bianconeri. Stasera la sfida intanto proprio per la Juve con il Chievo, Buffoni rientro, slitta in Coppa e sul ritiro. Insomma ci sono ancora dei dettagli da definire e da capire. Nel taglio basso il doppio grande ex c'è la partita di Nesta-Mila nel Lazio. Aspettatemi, vi allenerò così il grande ex difensore di Lazio-Mila e anche e soprattutto della Nazionale. Poi nel taglio alto, ma dove vedremo il calcio? Si chiede la Gazzetta, si parla chiaramente dei diritti TV. Adesso è caos, Spagnoli in Pol, Sky non molla. Si tratta con MediaPro, l'intermediario di Barcellona che già si occupa del campionato spagnolo, che offre 950 milioni. Allo studio c'è però un nuovo bando. E poi lunedì l'appuntamento con le elezioni federali, la metà della A è per Gravina. I lotitiani, Sibiglia vogliono Sibiglia, palla a Tommasi. Insomma questo è un po' quello che sta accadendo all'interno della federazione. Sul Corriere dello Sport il titolo di apertura, attacco Juve, anticipo con il Chievo. Allegri vuole il sorpasso sul Napoli, mentre il club entra in corsa per Politano e battaglia su tutti i fronti fra Napoli e Juventus. Nel taglio alto, la 2x2 di Walter Vertroni con Quagliarella, date fiducia agli italiani, gli stranieri tolgono spazio, il calcio sogno da coltivare. Poi il sondaggio di Nando Pagnoncelli, mettete un limite al mercato, per il 74% degli appassionati necessario un tetto alle spese. La foto di Neymar è emblematica, uno dei trasferimenti più costosi della storia del calcio. Nel taglio basso, in Saghi, Simone contro il Milan, cerca un'altra grande impresa. Per il calcio di Serie B troviamo nella prima anche il Pescara. Colpo Perugia, 2-0 a casa Zeman, oggi il Palermo assalta il Brescia per il Bari, c'è l'esame Empoli. Andiamo su Tutto Sport, il titolo di apertura è clamoroso, anche la Juve su Politano. Colpo di scena nella trattativa fra Napoli e Sassuolo, un nuovo esterno potrebbe tornare molto utile ai bianconeri che rischiano di perdere Quadrado per un lungo periodo. Allegri stasera col Chievo cerca il sorpasso su Sarri, Buffoni in panchina lancia un messaggio alla società. Se per voi continua ad essere un punto fermo, io non smetto. E intanto, sempre per il mercato, Perso Pellegri va al Monaco. E poi di spalla il Torino. Pazzo, non sa? Ok, ma a Mazzarri servono i cross. E poi, per quanto riguarda il mercato dell'Inter, Riccardi si gode l'Inter che torna a Argentina. E per i diritti TV, corsa a rialzo, Sky e Mediaset più gli spagnoli. Nel taglio basso troviamo anche lo Schi, Brilla la Bassino, seconda nella combinata per i motori. Luci puntate su Alonso alla 24 ore di Daytona e dall'estero il PSG a Neymar. Se vinciamo la Champions, puoi andare via. Questa era l'ultima notizia per la prima parte della nostra rassegna. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con i nostri esperti di Meteo 6. Poi torneremo con la seconda parte della nostra rassegna stampa per aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dall'Abruzzo. Riapriamo le pagine interne dei quotidiani regionali. In primo piano sul quotidiano Il Centro, la corsa ai centri commerciali, cantiere del Megalo 2, Le Ruspe. Sono già al lavoro partiti gli scavi con i permessi sospesi. Regione e Comuni sono in allarme per i lavori. che vengono documentati in queste fotografie dal giornale. Anche se come si scrive all'interno dell'articolo di Lorenzo Colantonio, al momento degli scatti le ruspe erano ferme. Poi nel taglio basso troviamo il premio Cerimonia all'Aquila. Sono finanzieri da mezzo secolo la medaglia mauriziana ai personaggi simbolo delle fiamme gialle. Poi l'agricoltura, aziende, danni da cinghiale. Le critiche al nuovo bando da parte del Consiglio regionale di Forza Italia, Mauro Febbo. Andiamo avanti verso il voto del 4 marzo. Il titolo PD, Ginobili fuori lista, vince la linea d'Alfonso. Nel centro-destra c'è Magnacca e torna Quagliarello. Delusione per Chiodi e Gatti. All'Aquila Renzi vuole Cialente. Pelino e Pagano in Lizza per un collegio blindato. Questo è il sunto che viene fatto dal giornale con le foto dei protagonisti. Nel taglio basso invece troviamo il Movimento 5 Stelle. Già partiti i 5 minivan. 360 sono le tappe previste in Abruzzo per questa campagna elettorale. Andiamo sul messaggero. Restiamo in argomento candidature. Il rebus dei partiti, due governatori per il PD. C'è anche la Serracchiani, la presidente del Friuli candidata alla Camera. L'Allegrino Bruciala d'Incecco, Fratelli d'Italia, Schiera, Petri e Ricciuti. Dunque questa invece è la lettura del messaggero. Per il Senato la sfida più attesa tra il governatore Luciano D'Alfonso e il coordinatore azzurro Pagano. I 5 Stelle candidano il giornalista Primo Di Nicola. Questa è un po' la notizia che riguarda il Movimento 5 Stelle che si prepara ad un tour. Lo abbiamo visto in tutta la regione. Andiamo sulla città per vedere la pagina Abruzzo del quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura di questa pagina è architetto sospeso nella ricostruzione aquilana. Professionista pescarese aveva ottenuto un incarico come collaudatore senza avere i requisiti necessari. Il sequestro, la Guardia di Finanza ha sequestrato 8 mila euro frutto dei compensi percepiti in maniera indebita. Le accuse avrebbe falsamente attestato di essere in possesso dei requisiti professionali e delle competenze abilitanti per l'incarico. Sempre su questa pagina la questione Atri Santa Lucia, promulgato il piano rifiuti e ampiamento della discarica scongiurato. E poi l'università, borse di studio, 352 idonei, ma non ci sono i soldi per quanto riguarda l'università dell'Aquila. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere adesso la pagina Abruzzo. Il giorno della prevenzione, lotta ai tumori, le nuove armi si studiano a Chieti. La ricerca è finanziata dall'AIRC che oggi mette in evidenza le arance della salute. Così l'acido acetilsalicitico, l'aspirina, può contribuire a prevenire le metastasi. E poi l'Oscar Green della Coldiretti al sale spray inventato a Tollo. Nel taglio basso basta precariato. I restauratori protestano, anche loro a Roma davanti al MIBACT, il Ministero delle Belle Arti. La Santella della Fillea CGL dice che lavorano nei cantieri senza alcuna garanzia. Restiamo al centro e apriamo la pagina di Pescara con l'emergenza influenza. L'ASL, nuovo virus in arrivo a Pescara, pronte 20.000 dosi. Il ceppo arriva dall'Inghilterra. È possibile vaccinarsi entro il 15 febbraio. L'infettivologo, la campagna funziona, ma fidatevi dei medici di base. Parruti fa un primo bilancio, 30 ricoveri nelle ultime settimane, 5 casi gravi al pronto soccorso, solo in caso di insufficienza respiratoria e semi-paralisi. Questi sono i consigli dei medici. Andiamo a vedere l'apertura della pagina di Pescara sul quotidiano Il Messaggero. Sempre la sanità in primo piano, ma per altri aspetti, supercardiologia, no della regione, la giunta approva l'atto di autonomia aziendale dell'ASL, ma boccia il potenziamento dell'unità di terapia intensiva. Peccato perché ci saremmo avvicinati ai requisiti per il DEA di secondo livello, dice sorpreso il direttore generale Mancini. Il manager dovrà fornire spiegazioni entro 30 giorni sulla modifica di alcune unità operative. Situazione invariata per quanto riguarda Popoli, Penne invece attende una nuova valutazione, Di Matteo chiede garanzie al governatore D'Alfonso. Nel taglio basso di questa pagina, settimana corta al classico, i contrari sperano nel Tar. Un genitore contro la preside D'Amico, il giudizio di merito accoglierà la nostra istanza di annullamento. Proseguiamo con il quotidiano Il Messaggero, sempre nelle pagine di Pescara. Trent'anni fa l'ultimo treno, il titolo perché l'area di risulta è incompiuta. Dall'inaugurazione della nuova stazione allo stallo sull'ex tracciato, quattro osservatori privilegiati discutono di una occasione perduta, quella della riqualificazione delle aree di risulta. Completiamo la lettura delle pagine di Pescara sul Messaggero. Segregate in casa, sola tra i rifiuti, dramma a penne, una donna affetta da disturbi psichici, salvata dai carabinieri, affidata a medici e servizi sociali. A dare l'allarme sono stati vicini, una vicenda complicata, dice l'assessore Di Vincenzo. C'è l'inchiesta della Procura della Repubblica. Poi dopo Forbes, un'altra promozione per il borgo di Florindia, città Sant'Angelo, il paradiso dei pensionati. Nel taglio basso la finanza riveste i poveri con le false griff sequestrate donati alla Caritas, gli abiti contraffatti recuperati nei laboratori fuori legge, gestiti dai senegalesi, giubbotti e altri capi di abbigliamento ripuliti dai marchi e messi a disposizione dei bisognosi contro il freddo. Nel taglio basso invece gli spettacoli, sogni e sondesto, raniere al massimo con il suo lungo viaggio nella canzone italiana e non. Torniamo sul quotidiano Il Centro, proseguiamo con la lettura delle pagine di Pescara. Torniamo adesso invece alla cronaca con le dichiarazioni di Fabiola Bacci, la mamma di Jennifer Sterlecchini, che dice non può esistere il perdono per l'assassino che è l'ex fidanzato della ragazza. Parla la madre dopo la condanna a 30 anni dell'assassino della figlia, giustizia esemplare, ma la legge va cambiata. Vi ricordo, proprio per farvi capire meglio il senso di queste parole, l'impegno della famiglia per l'abolizione del rito abbreviato. Poi proseguiamo, sempre sulle pagine di Pescara, sempre sul quotidiano Il Centro, organico carente in procura e tribunale, il personale protesta, denuncia del Comitato Lavoratori Giustizia, l'inaugurazione dell'anno giudiziario, 30% in meno di dipendenti mettono in difficoltà la macchina della giustizia, dicono. Il giorno della memoria, andiamo a vedere, premi in onore di Parete, il testimone dell'olocausto, convegno nella caserma della finanza intitolata al sotto ufficiale di abbateggio che sopravvisse a Dachau, poi a Milano la consegna di una borsa di studio. Andiamo avanti, sempre nelle pagine del capologo adriatico, in beneficenza i giacconi contraffatti, abbiamo già visto in precedenza, e poi lo scrittore Ride Luca incontra gli studenti del MIBE. Nelle pagine invece di Montesilvano, il degrado urbano, terzo sgombero in Pineta, parco pubblico devastato, l'assessore Cozzi, altri due cittadini segnalati alla questura per i bivacchi, Forconi e Scaburri, misure insufficienti, un profugo scomparso da Viale Abruzzo. E poi i contratti di fiume, solo anni di inutili chiacchiere, ieri questa conferenza stampa nel municipio di Montesilvano, i rappresentanti di cinque amministrazioni comunali capofila dei progetti contestano la regione e sottoscrivono un documento per avere ascolto e finanziamenti. Andiamo a vedere ancora nella pagina dell'area metropolitana, Palaroma, l'impianto conteso, il gestore Real Dem rivendica aspettanze dell'acqua e sapone calcio a 5, che ribatte, non siamo morosi. Andiamo a vedere adesso nella pagina di Francavilla e dell'area metropolitana. Francavilla è qui la grande festa per carnevale. Si avvicina appunto il carnevale e torna, come tradizione, l'appuntamento di Francavilla con i carri allegorici, presentata la 63esima edizione della Rassegna, in programma tre sfilate, concorsi ed eventi. C'è stato spazio anche per una piccola polemica da parte del presidente dell'Associazione Carnevale d'Abruzzo, Nicola De Francesco, uno spot elettorale sulla scuola di Cartapesto, un progetto che doveva prendere vita, ma per il quale non ci sono finanziamenti da parte della regione. Andiamo a vedere insieme il servizio che riguarda la presentazione del carnevale. 4, 11 e 13 febbraio sono gli appuntamenti con la 63esima edizione del Carnevale d'Abruzzo di Francavilla al mare. Il 4 febbraio ci sarà la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Antonio Luciani alla maschera regina del Carnevale, Patanello. Poi ci saranno le sfilate dei carri allegorici, il teatrino di Patanello, il carro dedicato proprio al simbolo del Carnevale d'Abruzzo, tre carri dedicati ai vincitori della mostra internazionale di pittura 2017, bozzetti d'arte per un carro allegorico, terza edizione al Museo Michetti, il carrozzone, italiani sulla luna, amore e solo amore, e poi il carro dedicato alla satira politica, l'Urre, sottotitolato E qui comando io. I carri saranno animati e coreografati da due scuole di danza di Chieti, da una di Pescara ed un'altra di Francavilla. E poi ci saranno i gruppi musicali, lo scaricarello e la banda della città di Chieti, assieme ad altri gruppi mascherati provenienti da tutta la regione. In programma anche eventi collaterali, come il ciclo di incontri con proiezioni di film denominato Visioni di Carnevale. E il fotocontest fotografa il Carnevale. Nei giorni 6 e 10 di febbraio ci sarà anche l'appuntamento con la città di Patanello, presso l'auditorium a Palazzo Sirena, con ingresso gratuito. I biglietti sono rimasti invariati come l'anno scorso, 5 euro gli interi, 4 euro in prevendita e i ridotti over 65. I disabili accompagnati da una persona, da un accompagnatore, entreranno gratuitamente così come gli under 13. Speriamo che ci sia una fluenza notevole, venite tutti a Carnevale di Francavilla. Premo la pagina di Chieti adesso sul quotidiano del centro. San Vito dipendente assenteista a Valbar mentre lavora custode sospeso, nei guai l'ha detto ai cimiteri, timbrava il cartellino e poi passava anche alcune ore nel locale al centro del paese. Ancora la cronaca invece spaccata alla sala slot, ladri in fuga. Chieti sfondano la vetrina con un'autorubata ma l'allarme riempie il locale di fumo. Poi il treno deragliato a Fossacesia, c'è l'inchiesta da parte della magistratura per accettare che cosa sia accaduto. Andiamo nella pagina di Chieti però sul messaggero. In apertura abusi sessuali su 9 baby atleti. L'allenatore verso il processo, il PM Falasca. Ha chiuso le indagini, l'uomo adesso potrà farsi interrogare. Spunta un'altra vittima, 4 anni di violenze, ancora 2 casi sono da valutare. Il prossimo passo della procura sarà la richiesta di rinvio a giudizio del 50enne di San Buceto. E poi anche qui ritroviamo il tentato furto alla sala slot e caccia ai 3 malviventi. Andiamo nella pagina della provincia adesso. Al bar invece che a lavorare indagato, abbiamo già visto in precedenza cosa accadeva a San Vito. Un 59enne si intratteneva ora nel locale Mexico 70. Per un mese è stato pedinato dai carabinieri. Il comune lo ha sospeso, accusato di truffa e falso. Continuato dal procuratore di Serio che aveva chiesto gli arresti domiciliari per il custode del cimitero. L'avvocato Petro Semolo dice appena letti gli atti chiariremo la vicenda. Poi sempre a Lanciano c'è il processo alla casa di riposo Lager, la casa famiglia L'Arcobaleno. L'imputata, Carmela Guglielmo, l'unica rimasta in vita perché il compagno è deceduto. Anche lui era imputato, ha detto nell'interrogatorio sostenuto davanti al PM. Gli anziani erano curati, questo ha detto appunto al PM e alla corte che la dovrà giudicare. E poi il tribunale unico, Menna e Pupillo, due sedi con competenze diverse. Si discute appunto dell'accorpamento dei tribunali di Lanciano e Vasto. Andiamo a vedere insieme adesso la pagina dell'Aquila, sempre sul messaggero. Borse di studio, scatta l'allarme, manca oltre un milione di euro la denuncia dell'Udu. In questo momento ci sono 352 studenti donnei non beneficiari, c'è la necessità di riperire ulteriori risorse, ma le proiezioni non lasciano troppe chance per l'Ateneo Aquilano. Da molti anni la copertura è integrale, in questa occasione sono a rischio 150-160 persone. Poi continuiamo con il taglio basso, abuso, condannato a quattro mesi l'ex rettore dell'Università dell'Aquila di Orio, l'acquisto dei terreni nel comune di Antrodoco per realizzarvi una villa. Proseguiamo con le pagine dell'Aquila. Negozi stile Suc, prima battaglia legale, diventa emblematico il caso di un condominio a Via Strinella. I residenti hanno intentato una causa contro i venditori di frutta. Saltata la mediazione, prima udienza fissata nel mese di aprile, gli inquilini chiedono la chiusura, troppi rumori e traffico caotico. E poi centro accoglienza, 6 ospiti denunciati per furto, il centro accoglienza per richiedenti asilo di Via Roma, che sarebbe stato covo per traffici illeciti. Nel taglio basso, le altre notizie, Bois e il suo Abruzzo in mostra all'Accademia, ex Accademia dell'Immagine, quel pasticciaccio brutto, e poi medaglia mauriziana, cerimonia alla Giorgi per quanto riguarda la Guardia di Finanza. Diamo nella pagina di Avezzano sul Mona, De Angelis consegna di Pangrazio della regione Abruzzo le delibere sul tribunale, ma intanto comincia la fuga dal Palazzo di Giustizia di impiegati e giudici, l'ex Assessore Verdecchia denuncia, è una diaspora. Ieri c'è stato l'incontro ufficiale fra il primo cittadino e il Presidente del Consiglio regionale. Poi per quanto riguarda sul Mona, neurochirurgia, attivato l'ambulatorio in ospedale. Andiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere anche qui la pagina dell'Aquila. L'uomo era originario di Pratola, 60enne stroncato da uno shock settico, Salvatore Natale, era arrivato in ospedale con un'infezione polmonare provocata da uno stato influenzale mal curato. Poi scendiamo per il post terremoto ricostruzione indagato un architetto di Pescara. Si tratta di Gianni Di Paolo Antonio, 73 anni, che è finito sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica per aver ottenuto un incarico di collaudatore nell'ambito della ricostruzione post terremoto all'Aquila, nonostante all'epoca non fosse in possesso dei requisiti necessari. Nel taglio basso, agricoltore, un appello ad Alfonso Gasbarro. Il candidatore non si candidi, resti per affrontare i problemi del nostro settore. Andiamo ad aprire adesso la pagina di Teramo, sempre sul centro, che parla del processo Castrum, Appalti e Mazzette di Filippo mi chiese un appartamento. In aula il primo test dei PM accuse il marito della Mastropietro, respinta l'istanza dei difensori sulle intercettazioni. E poi l'ite sull'erosione Alba, ricorso contro i pennelli a Villa Rosa. Nel taglio basso, no ai fanghi di Ortona davanti al Cerrano, WWF Legambiente, operazione decisa senza valutare i possibili danni all'ambiente marino. Possiamo andare a vedere il servizio di Paolo Lorenzetti. Fanghi da dragaggio del porto di Ortona potrebbero essere sversati nell'area protetta del Cerrano. Luciano Di Tissio, il WWF dice no. Noi diciamo che si deve trovare una soluzione alternativa, perché una quantità di sabbia così imponente può creare una serie di problemi. Tra l'altro manca sia la vinca in questo studio, in questo progetto, la produzione di incidenza ambientale, ma mancano anche studi specifici sulle correnti, sugli spostamenti che questa sabbia avrebbe. L'area marina protetta è l'unica marina protetta abruzzese, è una delle poche lungo l'Adriatico, ha bisogno assolutamente di tutela. Tra l'altro è un'area creata proprio per le vongole, che soffrirebbero particolarmente di questo ammasso di sabbia enorme. Tra l'altro è nell'area in cui verrebbe sversata, quell'area frequentata da delfini, da tartarughe marine. È un'area assolutamente delicata, questa quantità di sabbia è veramente imponente, non si può pensare di lasciarla in mare in quella maniera senza le dovute cautele. Nell'ultimo tavolo sul turismo si è appunto dato forza a una strategia che punta al turismo natura e in modo particolare la terra del Cerrano, col suo parco e con le sue risorse, è un elemento di attrattività forte che non può essere penalizzato da quest'azione sciagurata. Quindi voi a chi vi rivolgete? Noi ci rivolgiamo innanzitutto alla Regione affinché torni su questa decisione in modo deciso e si metta in campo un'azione alternativa che possa preservare quell'area. La pagina di Teramo sul messaggero in apertura, scuole appena ristrutturate nel birino di azioni vandaliche, in azione gli stessi studenti oppure infiltrati, situazione critica alla centrale Savini, segnalazioni anche a Castellalto e Cellino, maniglie di verte, vetri in frantumi e porte rotte. E poi in tribunale, impiegata infedele, il PM chiede due anni a Delle Crocetti, si sarebbe intascata i soldi dei cittadini per tumolare le salme a Giulianova. Scendiamo nel taglio basso, centro antiviolenza La Fenice, incontro con le associazioni, poi stazione al setaccio, spinelli sequestrati e multe questi controlli da parte delle forze dell'ordine. Andiamo nella pagina della provincia, Castrum, scontro sull'edificio di Saverio. Il geometra Giuliese aveva presentato un progetto nel 2012, ma l'ok arrivò dopo due anni e durante una cena si parlò di soldi. L'avvocato della dirigente Mastropieto e del marito di Filippo hanno replicato dicendo che poi l'approvazione ci fu, ma senza passaggi di denaro. Da Martinsicuro, presi con la droga, scattano due arresti. Nel taglio basso invece le altre notizie, parcheggi in lungomare, il modello sta a Roseto e poi cambiano le luminari, il nuovo contratto ad Alba e per Tortoreti, il parasport chiuso ancora con i sigilli. Restiamo alle notizie dal Terramano. Adesso andiamo sulla città, ripartiamo dalla politica. Candidature Terramo ridotta a Colonia Capitolina, scrive la città, centrodestra e centrosinistra. Le decisioni di Roma spazzano via un'intera classe dirigente, ridono solo i grillini. Posti utili, il nipote di Vespa al posto di Chiodi, Quagliarello nel posto ambito da Gatti, Ginobler rinuncia allo scontro all'uninominale, lascia il campo a Mariani. La lega forte delle sue quote rosa. Proseguiamo con le altre notizie. Via Muzzi, il comitato inchiodo il comune. Siamo al Terramo capoluogo, messa in sicurezza o demolizione per l'immobile fatiscente. A decidere sarà il commissario al posto del sindaco. E poi torniamo a parlare di politica. Contatti Dodo Tancredi su Covelli. Per la corsa al comune c'è chi si porta avanti con il lavoro. Si parte al centro, poi si vedrà. Proseguiamo. Ultimo saluto davanti alla farmacia. Il feretro di Raffaele Guerriere Crocetti portato a spalla dagli arbitri della sezione AIA. Ancora ricorso al TAR contro i pennelli a mare. Comuni albergatori di Alba passano le vie legali contro l'opera di Villa Rosa. Mi chiesero soldi per sbloccare la pratica. Siamo al processo Castrum, imprenditore in aula come testimone nel processo sul presunto giro di mazzette a Giulianova. Andiamo nella pagina che riguarda invece Roseto Pineto A3 e Silvi. Fondi dal miuro per due scuole rosetane. Voltarrosto e Santa Petronilla. 1,2 milioni sono i soldi a disposizione. E poi Santa Lucia lavori nel campo a rischio per la rottura della condotta. Andiamo avanti ancora e andiamo a vedere prima di arrivare allo sport sulla città. La pagina di sport che invece è sul centro e che riguarda il Pescara. La frenata del Delfino. Pescara al buio, il Perugia fa festa. I Biancazzurri durano un tempo e cadono sotto i colpi di Quanne e di Carmine. Dopo quattro gare si interrompe la striscia positiva. Il Delfino tiene botta nella prima parte di gara e va spesso vicino al gol con Mancuso. E con un palo di Capone ripresa da dimenticare con gli ombri che legittimano il 2-0. Andiamo a vedere prima di osservare servizio ed intervista. Andiamo a vedere le altre pagine. Il boemo deluso Zeman trova l'errore. Movimenti errati delle ali. Devono andare dentro l'area. Bisogna smarcare qualcuno al tiro. Così il tecnico che bacchetta i suoi. Il Perugia si è difeso bene. Ma se noi insistiamo a fare i cross, i risultati sono questi. Questa è la lettura di Zeman. Ancora sulla partita del Pescara. Il regista Biancazzurro Carraro. Il primo gol ha spento la nostra luce. Abbiamo fatto molto. Ma si fatica a mettere il compagno davanti alla porta. Dopo il vantaggio di Juan non siamo stati capaci di reagire come si doveva. Andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport del messaggero sulla partita del Pescara. Il titolo. Pescara una delusione. All'Adriatico passa il Perugia con un gol per tempo. Terza sconfitta casalinga. Fallito l'aggancio alla zona playoff. Mancuso fallisce l'occasione per sbloccare. Il grifone passa con Juan. Poi nella ripresa il 2-0 di Carmine. Al Delfino servirà un bel bagno di umiltà per dimostrare il suo valore in campionato. E poi i giocatori Cappelluzzo e Carraro dovevano essere cinici. Questo è il loro commento. Possiamo andare a vedere insieme il servizio della partita. E poi le impressioni nel dopogara. Nella fredda notte dell'Adriatico il Perugia fa vedere le streghe al Pescara. E così come nella gara di andata si aggiudica l'intera posta al termine di 90 minuti. Che hanno visto in campo un discreto Delfino nel primo tempo. Ma una squadra imbarazzante per pochezza nella ripresa. Chi si attendeva una pronta conferma dopo il successo di Foggia. Rimasto deluso con una prova sottotono e soprattutto una inconsistenza in attacco che preoccupa alla vigilia della gara di sabato prossimo a Frosinone. Zeman manda in campo per nove undicesimi la squadra vittoriosa allo Zaccheria con le due varianti di Carraro al posto dell'infortunato Proietti. A sorpresa di Campagnaro all'esordio in campionato per Coda. All'appello in casa abruzzese mancano anche Bovo, Palazzi e i nuovi Gravion e Falco. C'è invece Iagma alla prima convocazione. Gli Umbri di Breda si presentano con il modulo 3-5-2 in campo. Gli ex biancazzurri del prete Cerri ma non Damiano Zanon, influenzato in odore di cessione. Out anche Gustacchio Leali e Anne vicini alla cessione. Agli ordini del signor Pezzuto di Lecce si comincia di fronte ad oltre 7 mila spettatori. In curva nord i supporti Adriatici ricordano i due super tifosi Marco Mazza e Marco Casimiri. Subito emozioni con Mancuso che al primo in aria solo davanti a Nocchi controlla male il pallone permettendo al portiere del Perugia di respingere. La risposta Umbra arriva al terzo con un contropiede concluso da Di Carmine con un tiro al lato. Pescara costantemente in avanti nella prima parte di gara e in condizioni più che buone. Al sedicesimo si rivede però la squadra ospite con un tiro insidioso parato a terra da Fiorillo. I biancazzurri spingono ma vengono sorprese al ventisettesimo da Quan che su cross dalla destra di Delprete di testa sorprende Fiorillo. Regalando così il vantaggio un po' a sorpresa ai biancorossi di Mister Breda. Doccia gelata sugli spalti con il Delfino costretto così ad inseguire. I biancazzurri accusano il colpo e per qualche minuto arrancano prima di rendersi pericolosi. Al trentacinquesimo con Crescenzi che trova però la risposta delle portiere ospite. Si arriva poi al trentanovesimo con Carraro che va a sfiorare il pareggio con un tiro violentissimo dai venticinque metri. Il finale di tempo vede poi al quarantaquattresimo il palo esterno colpito da Capone. Nella ripresa si riparte senza cambi e con il pescare in avanti sin dalle prime battute. La frenesia però fa commettere diversi errori negli appoggi ai biancazzurri che poi con il passare dei minuti si spegneranno. Al settimo Zeeman richiama in panchina il bomber pettinari per Cappelluzzo prima della ghiotta opportunità mancata da Di Carmine con Fiorillo davvero strepitoso. Al quattordicesimo De Prete forse tocca in area con la mano il pallone ma il signor Pezzuto di Lecce giudica involontario il tocco o forse non vede l'irregolarità facendo proseguire il gioco. Ma la squadra di Breda è sempre pericolosa e alla diciannovesima è ancora lo scatenato di Carmine a fallire il 2-0 dalle parti di Fiorillo. I biancazzurri fanno tanta confusione in mezzo al campo favorendo così le ripartenze Umbre. Zeeman manda in campo Baez per Capone spostando Mancuso sulla sinistra. Trascorrono i minuti e Nocchi resta a braccia concerte con gli ospiti sempre pungenti in contropiede. Resta il fatto che dopo un discreto primo tempo in questa ripresa il Pescara ierbi poco evanescente al 37esimo ad essere impegnato e così ancora il portiere biancazzurro Fiorillo. Prima del convulso e deludente finale che vede al 43esimo il raddoppio di Di Carmine che in fuorigioco segna il gol del 2-0 e chiude la gara regalando alla sua squadra una vittoria meritata per il Pescara e una doccia gelata dopo la vittoria di Foggia e alla vigilia di una gara difficilissima in casa del Frosinone. Il problema nostro, io ripeto, noi abbiamo fatto molto bene prima mezz'ora purtroppo non riusciamo a trovare un attaccante smarcato dentro l'area di Ligo. È vero che Perugia si è difesa bene, noi sapevamo che con Palalta non ci arriviamo ma l'abbiamo provata sempre. Poi abbiamo preso brutto gol sul primo contropiede che hanno fatto e di lì si sono chiusi di più e noi non trovavamo spazio. È vero che secondo gol è in fuorigioco, è vero che due fali di mano dentro l'area di Perugia c'erano, però se non si vedono non c'è in tre fali. Non riusciamo a trovare l'attaccante di movimento dentro l'area di Ligo. Magari la pala di Mancuso c'era, la pala di Capone c'era, che sono pali da sfruttare. Abbiamo cercato, poi è normale che se andiamo individualmente a fare le percussioni, è difficile, prendiamo i brutti contropiedi. Però l'ipote ci voleva più attività, più giocate. L'importante è che gli attaccanti miei devono entrare dentro l'area. E' finale perché stanno venendo? Perché visto che buttiamo questi paloni dentro, il capezzuto di testa è la sua cosa. Speravo di approfittare di quello, anche se a me non piace quando la buttano dentro. Adesso lasciamo il Pescara, parliamo del Teramo. Andiamo sulla pagina dello Sport della città. Palladini, esordio duro, il titolo. A Ravenna per vincere ufficiale l'arrivo di Federico al posto di Repetto. Intanto piovono conferme sull'interessamento di Candeloro per l'acquisizione della società. In campo alle 18.30, trasferta delicatissima per il Teramo. Il tecnico ribadisce, i ragazzi hanno lavorato bene. San Domenico è a disposizione, Altobelli verso Siracusa è non convocato. Lunedì arrivano Panico e Gondo. Nel taglio basso, l'analisi dell'avversario. Entusiasmo, l'arma in più del Ravenna di Antoniole e dell'ex Capitanio. L'organico dei Romagnoli è stato ampiamente riconfermato dopo la vittoria del torneo di Serie D dello scorso anno. Andiamo a vedere anche il titolo del centro sulla Serie C. Eccolo qui, oggi Ravenna Teramo. L'ex Repetto attacca il cerchio magico del patron Campitelli. Ufficiale l'esonero, il sostituto Federico già a lavoro. Albenelli la prima di Palladini che cambia formazione. Passando al 4-3-3 come modulo di partenza. Andiamo a vedere anche il titolo del messaggero sempre sul Teramo. Eccolo qui. Teramo battesimo di fuoco. Scusate, per Palladini. Il nuovo mister debutta oggi a Ravenna nel match che vale doppio per la salvezza. Non c'è Altobelli dentro il mio acquisto San Domenico. Ci aspetta una gara molto difficile. Si è aggregato Sandro Federico, nuovo DS. Paniche Gondo in arrivo. Dentro Diallo e Milillo. L'ex DS invece Repetto dice ringrazio la lobby dei consigli. Il commento di Repetto alla notizia dell'esonero e lapidario. Apprendo solo ora dice, dopo giorni di annunci vari, che il Teramo ha unilateralmente chiuso il rapporto di lavoro che mi legava alla società. Devo ringraziare i tifosi Teramani per la cordialità con cui mi hanno accolto e la squadra, staff tecnico compreso, per l'impegno con cui hanno affrontato questi mesi di lavoro, pur tra non poche difficoltà. Ancora, non devo ringraziare la lobby di persone più o meno visibili che consigliano il Presidente. Repetto, conclude così. La gente dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio. Non è esclusa una conferenza stampa dell'ormai ex DS del Teramo nei prossimi giorni. Completiamo la lettura di questa pagina. Torniamo a Zeman. Per mezz'ora solo noi il secondo gol in fuorigioco. L'abbiamo ascoltato il tecnico del Pescara. Poi la palla a nuoto di A2. Pescara donne oggi con l'Ancona per il riscatto. Il basket di A2. Roseto obbligato a vincere. Altrimenti niente rinforzi. Torniamo sul quotidiano Il Centro. In eccellenza andiamo a vedere il titolo. Bartolini, nero-verdi favoriti dalle decisioni arbitrali. Travis San dice hanno paura. Vivace botte risposta tra i presidenti di Real, Giulianova e Chieti. Completiamo la lettura delle pagine di Sport sul centro. Il basket di Serie A2. Roseto è l'ultima spiaggia. Bisogna battere Orzinovi. Domani scontro Sarvezza al Palamagetti. Per il rugby di Serie A. L'Aquila nella tana del Lions Piacenza. Troiani è fiducioso. Il coach nero-verde dice è il primo vero test della stagione contro una squadra ben costruita. Per quanto riguarda la palla a mano, Teramo abbandona la A2, problemi logistici e infortuni e la squadra si ritira dal torneo. Nel taglio basso troviamo anche il calcio a 5. Italia pari nell'ultima amichevole. Giovedì al via gli europei e poi per la Serie A2 e B, pallavolo, gli abruzzesi a riposo, campionati fermi per l'assegnazione della Coppa Italia. E' davvero tutto per la nostra rassegna stampa. Mattino 6 tornerà lunedì alle ore 8. La nostra informazione oggi è alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie per essere stati con noi.